Parlare oggi della fabbrica Olivetti a Pozzuoli e di Luigi Cosenza è qualcosa di incredibilmente attuale. È un progetto innovativo anche per un aspetto assolutamente unico che ha un verde progettato, voglio dire non c'è solo il manufatto industriale ma c'è un contesto verde che viene disegnato e realizzato ad opera di quello che all'epoca era il maggiore paesaggista italiano, Pietro Porcinai, chiamato da Olivetti a collaborare con Luigi Cosenza. Va trasmesso alle nuove generazioni come modello non soltanto di architettura ma anche come un modello del modo di concepire il progetto dell'architettura e del modo di concepire l'attività dell'architetto.